Siete pronti? Giro di ruota per il campione a caso. Let's go! Che lo smalto mi porti fortuna. Beh, devo giocare comunque un support. Indovinate il campione. Inissance, we can swap, support. I can, leona, adc. No prob. We do swap with jungle? Ok, I can go... Ok, but only if I can go with leona jungle. Ma posso grattarmi il naso, monny? Mi è andato già l'hulu. Questo. Mi preferisci i cani, eh? Sì, c'è un quadro. Sì, dai, questo è asciutto. Un po' così, posso farlo? Sì. Ok. Sono troppo forte. Buonasera, sbiriale. Mi hanno messo lo smalto. Sì, sono quasi più asciugate. Ok. Sono leona jungle, ragazzi. Sono stato promosso da support a jungler. Molto bene. Andiamo! Leona jungle con l'omni stone. Oh, questa partita sarà molto bella. Report leona jungle. Ragazzi, questo pick... Sarà molto particolare. 30 secondi alla generazione dei minion. La Q è inutile. Stordisce per un secondo e infeggia 10 danni in più. Wow, 10 danni! Scala un fottio a P, eh? Cazzo, ma sapete che forse giocare una leona full a P mid non sarebbe male? La Q scala col 30% di AP, la V scala con 40%, l'E scala 40% e la ulti scala 80%. Che idea! Prossima volta che esce leona lo giochiamo full a P mid. Leona clear speed is not the best, is it? Yeah! But I do my day! It's my best, ragazzi. Io darò sempre il mass. I can easy gank. Sì, sì, è stato lì, ovviamente. Va bene. Se stiamo facendo le cose giuste. Le stiamo facendo giuste abbastanza. Ragazzi, intanto non ho preso danni, eh. Cioè, non vorrei dire, ma l'eula jungle sta workando sul serio. Cioè, guardate qua. Non subisco danno! È fortissima, ragazzi, OP. Poi abbiamo un mid che già sta vincendo. Mamma mia, l'eula jungle che non subisce danno dai lupi. Attenzione. Tanto Ash, Tariq, Botlane che si divertono a fare le cose. Dare sempre il massimo. Esatto. Ragazzi. Come il video di Garen. Aspetta, qual è il video di Garen? Massimo il video di Ione. Io dove gioco Ione? Oppure io dove gioco V? Quelli sono i video, ragazzi. Da cui prendere ispirazione. Zacchete, benissimo. Si va. Oh, ragazzi, ho un clear speed migliore di quello di Shaco. Oh, attenzione. Leona maggiore Shaco. Mi dispiace per tutti voi Shaco Min. Cucù. Cucù. Ok. Mi piace, mi piace. Buono. Sono potentissimo. Troppo... Si è un po' troppo pushato, Fra. Vabbè, vado bot. Top è troppo pushato, Min è troppo pushato e vaffanculo tutti quanti. Abbiamo bot. Lì ho guardato sicuramente. A meno farm, visto che non posso gankare. C'è la mia potenza, il gank, e loro pushano. Ma vaffanculo. Ma che cazzo mettete sempre i nemici sotto torre? Cercate di non pushare sempre. Lo sapete, ragazzi, che si può giocare la lane anche senza pusharla H24. Cosa maxiamo? Direi la E. Per gankare meglio. Più spesso, più che altro. Iniezione di due secondi. Ecco, visto? Se tu non avessi pushato, non ti avrebbero gankato. E ti avrei gankato io? Avremmo fatto la kill. Buono. Tanto c'è Leona qua. Ci pensa Leona. Peccato. Però è stata una bella azione. Ragazzi, una kill e un assist fatti. Leona gank, Leona jungler. È la verità. Tanto carichissimo, ovviamente. Carichissimo. Dobbiamo dare la carica al team. Cazzo, potevi smaitare un minion? Ah sì? Davvero? Oh. E cosa sarebbe successo? Me lo spieghi? Non ti cura sui minion? Oh, esatto. Bravo. Qualcuno lo sa. Benissimo. Thank you. Michello, purtroppo lo smite sui minion non cura. Altrimenti, certo che l'avrei fatto, no? Buono. Ti cura soltanto sui mostri. Oh, quante cose che si imparano dal cugino. Leona con la cometa. È tutto grazie all'omnistonite. L'omnidolite. Ok. Ho detto bene. Ok, solo sui minion neutrali. Si chiamano mostri. Però si può chiamarli minion neutrali. Alla fine sono neutrali, quindi basta dire quello. Ci siamo capiti. L'importante è capirsi nella vita. Oh, arrivo, arrivo, arrivo. Very nice. Troppo ho guardato, vero? Magari sì. Oh, oh, ci sono, ci sono. Naggia. La ulti! Non ho mana! Vaffanculo. Mi dedichi un permacici. Parks, guarda quanto le sto cicciando. Caputana. Se avessi avuto mana facevo doppia, cazzo. Uno di Gesù gentile. Omg, Leona, why so nice? Cioè, mi chiede come faccio ad essere così bravo? Perché? Anzi, non mi chiede come faccio. Mi chiede perché sono così bravo. La domanda è, perché sei così bravo? Ah boh. Eh, non sono nato così, che ti devo dire? Che ti devo dire? Molto, molto bella questa domanda. Me la segno. Ragazzi, voi perché siete viti? Perché siete vivi? Oh, no, merda. State qui con me. Siete voluti venire nella mia giungla? A dare il cazzo a Leona. No, è Leona che vi porta tutto il suo team. Don't touch De Leona. Hanno imparato una lezione. Buonasera, monstier! Che cattiveria. Penso chiedesse perché Leona è nice in giungla. No, no, penso chiedesse l'altra cosa. Ok, prendiamo la pink. Vai. Guarda, guarda. Mid watch and the DC watch. What the fuck is this? Tutte scuse. Voi siete venuti nella giungla sbagliata. Al jungler sbagliato. Leona jungler. Siamo 6 a 8. Per noi, ovviamente. Attenzione che flash! Sta arrivando anch'io. Non facciamo niente qui, ovviamente. Beh, peccato. Volevo... Ops. Potevo non smitarglielo, però volevo l'assist. Vabbè, non scordo di tutto rispesto. Carico per questa split degli underground, signor Rapp. Chi sono? Non riconosco, mi spiace. Eh, penso chiedesse perché... Eh, no. Questa Leona giungla è tanta roba, merda. Davvero, cazzo. Ah, degli underpowered. Ok. Non penso. Però benissimo. Oh, caspita. No, non ero serio sulla Leona più, ovviamente. Ma secondo te... Buono questo blu. C'è remisplay. Chiedono pure scusa a Leona, ragazzi. Sì, attaccami pure. È stata bella. Peccato, 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 peccato. Un po' esagerato, purtroppo c'è sempre Sciaco. Allora, chi è che fa danno qua? Lui fa danno tank. Lui fa danno a D, lei fa danno a P, lei fa danno a D, lui fa danno niente. Ok. Allora andiamo di armor, così mi fanno anche meno danni mostri. Cosa fa la ulti di Leona? Fa stedio. Dai, Yasuo, chi è la ulti? Ultalo, cazzo! Peccato. Il famoso danno tank, sì. E invece questo qua proprio non ne fa. Mi dispiace, ho rubato due kill alla Yasuo. Però vabbè, dai. Cioè, sono Leona Jungle, voglio dire. Chi è che non lascerebbe le sue kill alla Leona Jungle? Uno stolto spavaldo. Ok. Muoio di tosse. È possibile morire di tosse? Certo che io sono stupido, eh. Stavo tossendo e ho mangiato, così facevo ancora più fatica. Cioè, mi voglio ammazzare, ma che è? Comunque, ragazzi, non vorrei dire, ma ho più farm di Yasuo e ho più farm dell'altro jungler. 20 farm in più con Leona Giungla. Ma di cosa stiamo parlando, re? Ma di cosa stiamo parlando? Leona invade Shaco. Oh, quello lo deviamo. Eh, devo cenare, ragazzi, la mia cena. Non lo deviamo più. Buono. Voglio fare un po' di danno ad Ash. Leona dive sempre. Leona Jungle non ha paura. Eh, ma adesso arriva, non lo sa. C'era una World. Non penso che venga qua. Niente. Questo ti fatti vedere e non viene nemmeno. Vabbè, peccato. Ci potevamo provare. Avrebbe potuto giocarla meglio Nautilus. Andiamo con un po' di danno. Non sarebbe male. Sempre meglio di Senna Seraphine. Sempre meglio di Seraphine. Quello sì. Rivolgo Taric più sono a meta. Ah, quello no. Non lo voglio nemmeno io, però. Colpa mia che è che... Cosa, cosa, cosa? Non ho capito. Qual era sta roba degli Underground, comunque? Non ho capito. Eh, non ero solo leona P perché ovviamente non la faccio. Muoio di tosse. Let me get a kill, ice scale. Sì, sì. Ma, oh, ragazzi, cioè. Guarda qua che danni. Potremmo fare leona con la Drakhtar. Ok, facciamo questo. Chaco sta camperando la mid. Purtroppo quello non possiamo farci niente. Però possiamo gankare la botta adesso. Attenzione, arriva il gank di Leona. Ti ulta in testa. Devi flasharla. Ah, vai. Non si scappa la Leona. Leona 7-2 Jungle. Andiamo a fare il Drago. Moni, sto giocando benissimo Leona Jungle. È il potere dello smalto. Eh, sì. Ragazzi, sapete adesso, sapete qual è il segreto. È questo. Effettivamente, tutte le volte che mi hanno messo lo smalto sono sempre stato più forte. Anche a Capodanno, mi ricordo. Ero carichissimo. Vai. E' il potere di Moni che si... Brava Moni. Smalto uguale Challenger. Vai. Non voglio flasharla. Ah, ha flashato lei. Andrei top lane. Uh, quello lì è grosso, eh. Vantiamo qualcosa di grosso. Maybe your first gank top, ma fra, se non l'avessi pushato tutto il tempo, te l'avrei fatto molto tempo fa. No, chi è che vuole sorrendare? Ma sto scemo qua? Affanculo. Allora, compriamo HP. Cosa buona e giusta. E via. Ti piace Ivern? No. Da noi mi metto lo smalto pure io. Ok, allora aspettate, facciamo prima la linea di smalti, così comprate il mio. Eh, lo smalto Urf. Avrete meno cooldown sulle vostre abilità. Sarebbe figo, vero? Non esisterebbe mai una roba simile. Sarebbe molto bello, però. Il famoso gank al minuto 16.45. Porca puttana, sono 7-2-3. Ho praticamente 10 kill participation e due draghi sulla squadra. E tu ti lamenti del jungler? Quando tu, fottuto laner di merda, sei stato a pushare tutto il tempo che io volevo gankarti all'inizio, visto che Chogat era un bel easy gank e early game. E ti lamenti con me al minuto 16 chiedendo il gank? Ma porca puttana. Vai, vai, ci vado, ragazzi. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Quello lì lo ammazziamo. Vai. Tac. Io penso a lei. Ai 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 ai. Questa leone è un po' forte. È morta. Questo Chogat è un po' forte. È vivo. Chogat è grosso. Cosa posso farmi di anti-tank? Se io sono un tank, ci sono oggetti per tank e anti-tank? No. Il che potrebbe rivelarsi un piccolo problema. Allora. A me ma la vinciamo, ragazzi. Com'è che Yasuo ha iniziato a fare schifo? Ti ho gancato tutto il tempo. Fra, madonna. La vita, la mannaia. La mannaia però toglie solo un pochino di armor. Ma potrebbe aiutare il mio team. 15 gank 60. Deine, Haugen, Sind, V, Stern. Visto che sono tedeschi. La maschera dell'abisso. Giusto, giusto. Very nice. Sta pure vaffata. Bene, bene. Andiamo. Eh, lo so, porca puttiana. Però non fa niente. Buono. Buono. Andiamo su questo. Andiamo su di lui. Mazziamolo. Per bene. Mille gol da Leona, signori. Leona il carry. Un alleato che è stato ucciso. È innaturale. È stato molto carino. Ah, parli tedesco. Qualcosa so. Serac, sì, sì. Penso che farò quella. Allora. Ragazzi, Leona 10, 3, 6. Più farm di Yasuo. 20 farm in più di Shaco. Più farm di tutto il team nemico. 16 kill participation su 24. Porca puttana. Questa è la Leona che tutti vogliono. Allora, dove è lo Sterak? Bella, bella, bella. Mi piace. Con cui sono reinventato la build di Ezreal del Fasile. Ti ricordo? Va bene. Allora poi la facciamo. Dimmi pure. E capimi? Ezreal del 15%. Oddio. Però è vero. Volevo fare anche la Bissal. Vabbè. Ci pensiamo. Ti fa Serilda. Minchia, Serilda così. No. Guardate che faccio tanto danno, eh. Non scherzo. Avrei potuto prenderlo a casa. No, forse meglio di no, visto che sta per morire. Meglio così. È stato easy. Eeeh. Il problema è che io posso solo ingaggiare, non posso disingaggiare. Aia. Mamma mia. Sta andando male. Purtroppo non abbiamo danni. Questa la prendo io. Questa la prendo io. Attenzione, doppio di leona jungle. Sono un vero guerriero, con la spada proprio. Una guerriera. Con la spada e lo smalto. Non ci si arrende. Mai. Mai mostrare debolezze. Ecco. Ok. Nella versione, sì. Eh. Dov'è? Eccolo qua. Ok. Buono. Per sicurezza io ho ultato, forse era un po' esagerato, però. Ok, forse ora serviva la ulti. Cazzo raga. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Difendiamo i carry, difendiamo i carry. Difendiamo i carry. Uccidiamo tutti. Vai, è rimasto solo Cho'Ga. Slowiamo Cho'Ga. Stuniamo Cho'Ga. Ristuniamo Cho'Ga. Ristuniamo Cho'Ga. Kai'Sa attacca. Lo stunno, Kai'Sa, ti prego. Lo stunno di nuovo, Kai'Sa, ti prego. Lo stunno di nuovo, Kai'Sa, ti prego. Dammi una mano, Kai'Sa. Sì. Mamma mia. Brava Kai'Sa. Brava. Never surrender, ragazzi. Ok. E ora cosa compriamo? Eh, mi hanno detto la maschera abissale, giusto? Così mi fa meno danni anche quel puttana. Ristunza magica. Eh, eh, sì. Kai'Sa, ti prego, disse il botto, ma la sua dom? Allora, in questo momento io sono il dom assoluto, perché sono 13-3-12, quindi no. Nessuno mi eguaglia in scorni in questa partita e io sto giocando pure Leona Jungle. Cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Glielo stunno. Guadagno armatura. Ok. Lasciamo ciogate da solo. Ciogate da solo. Vai Kai'Sa. È stunnato. È ristunnato. Buono. C'è solo sciacco vivo, io vado a fare il drago. Bello quello sto TP. Manca una GA. No, 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 adesso iniziamo a fare le cose belle. You can solo hit, of course. I'm Leona Jungle. Buono. Quattro draghi su quattro, la Leona Jungle, ragazzi. Redding, io non lo capisco tutta questa roba, però. Un po' lo capisco il tedesco, ma così tanto no. Copertina speciale per questa uncut, te lo dico già. Va bene. Qual è la copertina speciale per questa uncut? Ragazzi, state vedendo un uncut con una copertina speciale. Bravi. Parlo a voi, popolo di YouTube. Ok. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, non ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono! Ash non gioca la partita. Nemmeno Rihanna gioca la partita. Leona contro tutti, cazzo! Leona contro tutti! Mannaggia Rufino. Vabbè. Iscrivetevi anche voi al canale Uncut, dobbiamo arrivare a mille iscritti. Così sembro uno streamer serio. Potrò farlo di lavoro se arriva a mille iscritti, ragazzi. Punto esclamativo Uncut, punto esclamativo Social, punto esclamativo Scalata, punto esclamativo Torneo, punto esclamativo Sfida, punto esclamativo Nome, punto esclamativo Rari, punto esclamativo... Altri comandi ce ne sono, altri comandi ce ne sono, lotteria, punto esclamativo, ciao Rapp. No, riscatta ciao Rapp. Ecco. Hanno fatto il Baron. Mannaggia, mannaggia. Ma ragazzi, secondo voi sto sbagliando io o c'è qualcosa che non funziona qui? No perché io sto facendo davvero un gran lavoro Nel senso Ci dovrebbe essere qualcosa da parte del team Che manca Che cosa? I danni Perché? Perché fan cagare Perché fan cagare? Eh boh E' un po' come a me che mi chiedevano Perché sei così forte? Eh E' una domanda che non si può fare Ok Oh merda Eh niente Vabbè hanno usato un po' di ulti eh Eh sì Però Galio non c'è mai nel team Galio si lamenta di io C'è lamenta di io che non l'ho gancato E lui non ganca mai Guardatelo lì in top lane come farma i suoi minion Col drago dell'inferno Devo comprare mia Tormil Riduco le cure Cosa cazzo devo farmi? Tutto io devo fare Qualcosa che faccia danno Mamma mia Mamma mia ragazzi che scandalosi Che scandalosi Questa partita era una bella partita L'hanno reso una brutta partita Dai Kaisa Credo nel tuo potere Lo stunno io Lo slowo io Lo ristunno io Lo ristunno io Ho la ulti al massimo Andiamo dritto per dritto mid Dritto per dritto ragazzi Per favore Vai let's go Continuiamo così Bravi Hanno solo Rianne e Ciogat vivi Galio e la ulti Vai che li spacchiamo Mi prendo io il litro della torre Dai Kaisa sei un antitanco oppure no Buono 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 Ulti di Taric no Sciaco la merda umana Sciaco è troppo forte raga Sciaco è troppo forte Ok Modificate un pochino il microfono Spero si senta ancora bene Gli zoom non è oscura Sì Invece che Boh Altro Perché non fanno danno i miei compagni Raga ma che cazzo devo fare Allora i danni che mi fanno sono Esattamente sia tanti a P che tanti a D Non so devo farmi tipo questo Il voto del cavaliere Ce l'abbiamo già E io lo piazzo su Iauso magari Serve a qualcosa secondo voi? Drago maggiore Eh mi sa che abbiamo perso ragazzi Col drago maggiore non si scherza Especialmente se sei un tank Subisci un fottio Cerchiamo di essere utili Niente ormai è inutile raga Eh peccato Sono molto triste L'ho giocata bene questa leona jungle Non mi meritavo la sconfitta Non me la meritavo Eh niente Non c'è più La torre Che sfiga raga Sono molto triste I'm so sad Eh niente Tutti che abbandonano Fanculo a gali Eh niente Team difference Cioè non che il mio team Abbia giocato particolarmente male No Però Non Cioè non possiamo battere Non possiamo battere Sono troppo forte Cioè Cioè E' due partite di fila Che è il top laner La causa del problema Boh Vabbè Giocata è diventato un problema Perché aveva il Il drago Maggiore ragazzi Ma il mio MMR è alto eh Cioè siamo arrivati in silver Giocando campioni random Non è che sia bass Boh Davvero peccato Sono molto triste diciamo Ho preso S S più Con leona jungle S più leona jungle Ho fatto più danni io Di tutto il mio team Ma è sempre così Non importa quale campione gioco Non importa quale lane gioco Non importa conquer una gioco Come lo gioco Se vado tank Faccio sempre più danni Di tutti quanti loro Com'è possibile Come cazzo è possibile Che ho fatto 10k Di danni in più Ai carry Only if you know What you are doing Mi scrivono in champion select Prima di giocare leona jungle Ma a me pare Che prima di sapere Cosa devono fare gli altri Dovete sapere voi Quello che dovete fare Non sapevano come giocarla Scusa Porca puttana È leona jungle Giocata così Che che non vorrebbe Una leona così In tutte le sue partite Metteteci un pochino Del vostro Non possono sempre essere Gli altri a dovervi carriare Fadate una mano Peccato ragazzi Insoddisfacente questa partita Ma ne facciamo un'altra